La Guardia di Finanza di Milano, insieme alla Polizia Locale di Milano stessa e con il supporto dei Carabinieri del Comando Unità Forestali, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 14 indagati, legati a un'organizzazione mafiosa di stampo andranghetista. Questo sudalizio, guidato da una famiglia calabrese radicata a Milano, era attivo in varie attività legali, tutte legate, al metodo mafioso, tra cui intestazione fittizia di attività commerciali, estorsione, truffa ai danni di agenzie del lavoro interinale e traffico di rifiuti. Le operazioni hanno coinvolto oltre 80 unità tra finanzieri e agenti della Polizia Locale e Carabinieri Forestali, che hanno eseguito le misure cautelari e perquisizioni in diverse province, tra cui Milano, Monza-Brianza, Varese, Pavia, Modena e Mantua. L'indagine, condotta con il supporto del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata di Roma e della rete operativa OND Europol, ha permesso di smantellare l'associazione andranghetista, che aveva come punto di riferimento la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Si è scoperto che il gruppo mafioso utilizzava prestanome per eludere le leggi sulle misure di prevenzione patrimoniale, intestando fittiziamente attività commerciali in Lombardia e Piemonte. Inoltre, un membro del sodalizio cercava di infiltrarsi nel settore dei locali di intrattenimento a Milano durante l'operazione. Sono state sequestrate quattro società di capitali, titolari di esercizi commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, poiché i loro valori erano sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dagli amministratori. Le indagini hanno anche rivelato un meccanismo utilizzato dal gruppo criminale per truffare agenzie di lavoro interinali attraverso contratti di somministrazione fittizi. Con la complicità dei lavoratori, l'azione congiunta delle forze dell'ordine testimonia l'impegno nel contrastare la criminalità organizzata e le sue infiltrazioni nel circuito economico legale, a tutela ovviamente della sicurezza e della legalità economica stessa del Paese. La responsabilità degli indagati sarà accertata durante il procedimento penale, attualmente in fase di indagini preliminari, con la presunzione di non colpevolezza. Fino alla sentenza definitiva.